L'immensa forza di Letizia. Letizia non studiava né analizzava la Bibbia, la leggeva e basta. I molti passi in cui sembra che la Bibbia si contraddica non la confondevano minimamente. Poi arrivò un punto in cui la conosceva così bene da andare tranquillamente avanti senza neppure leggere. Dopo il trapasso del marito Letizia levò i suoi tre figli e li avviò all'età adulta prima della svolta degli anni 2000. La sua è stata sempre una famiglia ben cementata, solida e impiantata nella Bibbia. Quando il suo kibbutz è stato centrato da un razzo che le ha schiantato la famiglia e lei è rimasta sola, dall'uccidersi l'ha salvata la Bibbia, che è l'immensa forza di Letizia. Commento. L'ha salvata la sua fede nella Bibbia, perché la forte fede, qualsiasi fede, coagisce con l'assoluto. E questa è la meraviglia della legge. Grazie. Grazie a tutti.